Oggi siamo qui a presentare e ufficializzare l'ingresso a società di Valentino Papa. Sono onorato di questo di rappresentare la società in questa presentazione perché ritengo Valentino oltre che un amico sicuramente una bandiera della Saremese sia dal giocatore prima che è dall'allenatore dopo e oggi ufficializziamo il suo ingresso nello staff tecnico della prima squadra di Mestre Ascoli e sicuramente è un ingresso di prestigio per quanto riguarda l'intero panoramica della Saremese Calcio. Siamo veramente contenti, felici di questo e spero che questa collaborazione possa durare il più a lungo possibile, regalando le soddisfazioni alla Saremese e togliendosi anche delle soddisfazioni sia da Valentino che da sua amico. Come diceva il direttore siamo contenti di questa nuova figura, Valentino è una persona preparata, arricchirà il nostro bagaglio, è una persona che vuole bene alla Saremese quindi è un tassello che a noi fa comodissimo e sicuramente ci darà quel qualcosa in più per andare avanti e tentare di fare un grande campionato. Sì, ringrazio innanzitutto la società per le opportunità che mi è stata data in qualità del direttore e del presidente Marco De Verata e poi volevo ringraziare personalmente il mister per la fiducia che mi ha dato in questi anni da quando ci siamo un po' conosciuti, è un rapporto che da tre anni ci sentiamo quasi costantemente e condividiamo delle idee che sono quasi simili e ringrazio personalmente lui, ringrazio la Saremese e il saluto a tutti i di voi per i chiama e avvissate. Grazie a tutti.